Direttore generale Andrea Lanci, sarà una stagione complicata semplicemente per il fatto che la 3 è cresciuta di livello, però l'impavido Ortona vuole immediatamente risalire? Sì, noi abbiamo costruito una squadra per stare al vertice, ci proveremo perché poi vincere sarà sicuramente abbastanza difficile perché il girone del sud è molto 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 complicato. Ci proveremo, noi la squadra è competitiva e vediamo un po' di dare filo da torcere a tutti quanti. Questa presentazione ufficiale al pubblico è molto importante, è peccato che manchino due pedine dell'Agnol, mi sembra che sia un infortunio abbastanza serio, in perfetta linea con la sfortuna nera che vi perseguita da anni e poi manca Marshall, ma credo che sia un problema risolvibile. Sì, sì, Marshall ha un attacco influenzale, mentre dell'Agnol adesso martedì faremo una risonanza per capire bene quali sono, qual è l'entità dell'infortunio. Loro purtroppo questa sera non ci saranno, ma insomma ci presenteremo comunque alla cittadinanza. Andrea, l'ultima battuta riguarda diciamo il passato e il presente, ma anche il futuro, perché passato mi viene in mente ancora la rabbia che almeno io non l'ho smaltita, dico una retrocessione ingiusta, ingiustificabile e assurda. Ma sì, alla fine, all'ultima giornata abbiamo pagato tutto quello che è successo in estate, è andata così, abbiamo smaltito quella delusione, adesso ripartiamo da questo nuovo campionato, questa nuova realtà, questa nuova squadra, sembra un gruppo molto coeso, speriamo di fare bene.